Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi differente da quello che stiamo vedendo che ci servirà il centro operativo mobile, l'auto che vogliamo duplicare e non è necessaria la targa personalizzata, un bunker e la mira manuale questi sono i primi requisiti per fare il primo step come vedete sono in mira manuale, quindi questo glitch funziona sia su Xbox One che su PS4 dopo di che dobbiamo avere preparata una community o un amico che gioca in un'altra sessione con modalità di puntamento diversa dalla nostra quindi che cosa dobbiamo fare? avviamo questa community o l'invito, cioè la partecipazione alla sessione da quest'amico io in questo caso uso la community, faccio partecipa a sessione lo faccio due volte così almeno la seconda volta l'invito lo carica rapidamente e accettiamo il primo messaggio e rifiutiamo il secondo ci dirigiamo verso il bunker, entriamo, community, doppio tasto PS accettiamo il primo messaggio e rifiutiamo il secondo però dovremo permanere in quella schermata dove ci dice di cambiare sessione per 60 secondi dopo di che cancelleremo il messaggio, faremo nuovamente partecipa a sessione accetteremo il primo e schippiamo il secondo e ci troviamo in questa schermata ragazzi ve l'ho spiegato in maniera un po' rapida però vi lascerò una scheda qui in alto a destra ora comparirà la scheda e consultate quel video lì con gli altri video connessi a questo punto premete option, andate su online, starter pack e vi potrete sbagare, come vedete io sono caduto nel vuoto ma non è tutto ragazzi, l'auto non è ancora nostra non è ancora disponibile, non possiamo ancora usarla perché se ci saliremo sopra non potremo guidarla quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare ragazzi l'unica cosa che dobbiamo fare è mettere il centro operativo giusto giusto davanti alla nostra auto adesso andiamo a vedere come qui, in questa posizione una volta posizionato il centro operativo in questa posizione il centro operativo ragazzi dovrà contenere una LGRH8 dentro comunque dovrà essere pieno meglio una LGRH8 vi comparirà la freccia la primerete giustamente e skipperete il messaggio con cerchio o meglio non accetterete di sostituire vi dirigete alla base operativa e lasciate l'auto fuori io qui vi faccio vedere la data del glitch ragazzi in maniera tale da farvi vedere che funziona perfettamente ragazzi e quindi andremo ad entrare dentro la base operativa per quest'altro step ragazzi nella base operativa ci servirà sì o sì per forza insomma una BMX ragazzi altrimenti non potremo fare il glitch una BMX o una bici qualunque io qui ho la scorcher mi sembra che si chiama però c'ho anche altre BMX come avete potuto vedere e andate al cannone orbitale una volta al cannone orbitale non fate come ho fatto io perché sennò vi ha spaccati i denti dovete mettervi vicino al cannone orbitale così se non vi compare la freccia uscite nuovamente dalla sala del cannone orbitale e ci rientrate e vi mettete lì davanti al cannone vi compare la freccia ragazzi io adesso scendo vi faccio vedere scendo dalla bici e risalgo vedete che compare la freccia a questo punto premete freccia e R2 per uscire ragazzi per accelerare una volta fuori vi ricordavate che la targa di quest'auto era Tigri una volta fuori avremo una targa invisibile quindi questo glitch è buono anche per fare la targa invisibile sulle vostre auto ragazzi chiameremo il centro operativo mobile aspetteremo che ci arrivi e andremo a mettere quest'auto nel centro operativo mobile ragazzi entreremo dentro la LG che ha nel centro operativo mobile si sposterà nella base operativa e avremo salvato l'auto dopo di che potremo riportare l'auto o in garage o nella base operativa se siamo vicino alla base operativa o dove cazzo siamo noi o se avete un garage vicino nel vostro garage è più vicino come ho già detto ragazzi vi ho lasciato una scheda nel video dove vi insegno a mettere la BMX nella base operativa dove vi insegno a duplicare la BMX e e tutto il resto e questo glitch spiegato ancora in maniera più dettagliata ragazzi che altro aggiungere non ho veramente nient'altro da aggiungere detto questo ragazzi un saluto a tutti approfittate di questi glitch e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti